Nuova sentenza del Tarrabruzzo nei confronti del Comune di Roseto, che ha accolto anch'ese in modo parziale il ricorso presentato lo scorso anno dall'Associazione dei Balneatori e Albergatori da Assorose, relativo alla Tarri 2018. Un ricorso che era rivolto in particolar modo a chiedere l'annullamento di due delibere, quelle di approvazione del piano finanziario e quella delle tariffe 2018. Da un primo esame del contenuto della sentenza da parte del Comune sembrerebbe essere emerso che l'orgolo giurisdizionale non avrebbe in realtà annullato le delibere in questione, ma abbia solo indicato diversi criteri da applicare a consuntivo per la quantificazione dell'effettivo costo del servizio 2018. Una sentenza che sulla base dei criteri dettati dal Tarra comporterebbe un abbassamento per gli utenti dei canoni del servizio 2018 rispetto a quelli stimati e una probabile riduzione delle tariffe rispetto a quelle preventivate nella bozza di bilancio per l'anno 2019. La parte che mi pare più incisiva è la parte in cui il Tarra indica un diverso metodo di calcolo del Fondo Crediti Dubbi Esigibilità, che è una delle voci del piano economico finanziario della Tari. Ritengo quindi ad occhio, ma mi riservo naturalmente di esaminarla più approfonditamente insieme all'ufficio legale dell'ente, che questo comporterà una riduzione della Tari. Perché? Perché noi, da come si evince nella motivazione della sentenza, noi dovremmo procedere a conguagliare in qualche modo quello che è stato messo in più. E quindi ritengo che già l'amministrazione aveva programmato una riduzione. Ritengo, ad una prima lettura, sottolineo, che bisognerà aumentare questo sgravio. Quindi un beneficio per i rosetani si prefigura sotto un duplice profilo. Riduzione già prevista dall'amministrazione, cui si dovrebbe aggiungere un'ulteriore riduzione per questo nuovo criterio di calcolo di una voce del piano economico finanziario, fondo crediti dubbi e esigibilità, che è stata imposta dal TAR. Questo, ripeto, ad un primo esame della sentenza. Quindi buone notizie per i rosetani in concreto.